Migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Con questo intento, come ogni 28 aprile, si celebra anche quest'anno la Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro promossa dall'ILO, ovvero l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Una giornata istituita nel 2003 che quest'anno ha come tema ottimizzare la raccolta e l'uso dei dati sulla sicurezza e la salute sul lavoro. Un'occasione per dibadire il diritto a condizioni di lavoro sane e sicure. La nostra azienda, come tutta l'azienda della regione Sicilia, sono impegnate direttamente nella cercare di fare sia un aspetto repressivo ma soprattutto di prevenzione per ridurre quelle che sono le cause di infortunio e di malattie professionali che purtroppo ancora incidono in maniera significativa nella nostra regione. A tale proposito l'assessorato della salute ha predisposto un piano di prevenzione che prevede delle linee progettuali sia sull'edilizia sia sull'agricoltura ma una delle novità che noi siamo felici di fare è quella della prevenzione dell'informazione che faremo in vari setting, in vari ambiti a partire dalla scuola ma anche sui datori di lavoro e sui lavoratori stessi. Oltre 860 le persone formate dall'ASP con il progetto Sicurezza, 250 con Coltivare Sicurezza e 450 nell'ambito delle costruzioni sull'aspetto dell'amianto. Prevenzione e promozione della cultura sulla sicurezza per prevenire i rischi, la parola d'ordine. Noi ci occupiamo fondamentalmente di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori osservando e vigilando su quella che è l'adozione e l'applicazione delle norme di prevenzione ma fondamentalmente dagli ultimi anni e da quelli che sono i risultati delle statistiche sugli infortuni e malattie professionali ci siamo resi conto, così come a livello nazionale è l'impostazione di curarsi molto più della fare cultura della prevenzione. Cultura della prevenzione che è stata attuata dal nostro servizio su iniziativa negli ultimi anni ma anche su proposta dell'assessorato alla salute con progettualità che sono state utili a formare lavoratori, datori di lavoro come responsabili del servizio di prevenzione e protezione e tecnici che si occupano come azione di consulenza della prevenzione per la salute e la sicurezza se lo vi lavoro. Ma il nostro fiore all'acchiello al momento è quello proprio di curarci di questa cultura alla base della fonte culturale che è quella della scuola. Di questa attività noi a 360 gradi ci muoviamo sul territorio nell'azione di vigilanza facendo anche azione informativa ma spesso creiamo degli incontri con i tecnici abbiamo uno sportello informativo, incontri formativi per quanto riguarda i lavoratori in particolare il progetto Sicilia in sicurezza, coltivare la sicurezza in agricoltura e tante altre iniziative che sono utili a migliorare questa cultura.